Sì? 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 No, lei si sente il tuo? No, non hai capito. Mi si mette a piovere le otto anche in mezzo. No, non hai capito. Sì? E giugata per voi? Sì? 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 Buongiorno 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 Ciao 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 Dario Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. con il gruppo di batteria come tanto a te quello li lo vendono a parte lo vendono a parte pensato dall'andrella a foto lo sto pagando devi prendere in internet se vai dall'andrella te lo fa pagare un capitale lo so, infatti dalla macchina fotografica la media ha l'obiettivo lo stesso ho aspettato le offerte e l'ho presa lì alla media 1 stavano facendo dei bei prezzi eh ma non sempre c'è disponibile il materiale di qua, di qua, di qua di qua a sinistra alla mia, alla vostra destra alla vostra destra alla vostra destra chiamato a sinistra alla vostra destra di qui a sinistra a sinistra con tutti i due andiamo? prima c'è la foto del bacio bacio anche e bacio anche il bacio adesso facciamo la foto vai no ehi 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 dai 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 sai una cosa a noi? sapete poi dove trovate? è un po' di Antonini? no no scorsi all'Italia correndo di rinforrendo correndo di rinforrendo correndo di rinforzioni non ero io sono il più bello per cari e dove troviamo? correndo di rinforzioni ok allora aspetta la scelta bravo ancora che mi aspetta è che devo stare in carete eh eh Gianni arriva che smercia Gianni va con calma Guardi 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 Chiedo se ho mai ragazzata se si sa gestire Viene fuori È un 2001 Ha vinto anche lì Gattinara 22 2 manca il battocchio che sarà l'ultimo e arriva la perni grazie sto correndo e rincorrendo sto correndo e rincorrendo non stai sicuro non mi aspetto vai 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 forza vai 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 alla prossima cazza 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 Grazie a tutti.